Musica 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 Uh, adesso fatemi, fatemi, fatemi sentire, fatemi sentire, fatemi sentire, fatemi sentire, fatemi sentire, il basso, yeah Ragazzi, quest'uomo che sembra un uomo anziano, sembra anziano, quest'uomo anziano che però ha 22 anni, però se ha una malattia, lui è anziano, ha l'anzianità diciamo, quest'uomo al basso, con questo tiro così funk, lui viene da un posto sulla costiera amalfitana, da Fositano, Mister, Domenico, Mancuso, al basso facciamo, eeeh, come il grande concerto, ah no, no, più convinti, facciamo così, facciamo finta che il grande concerto, di chi capisce, per esempio, no?